Bene, grazie, grazie a tutti. Oh, benissimo, c'è anche il gobbo qua davanti. Velocissimamente ci siamo accorti che la formazione è una prigioniera, una prigioniera politica, una prigioniera burocratica, una prigioniera amministrativa, una prigioniera culturale. Bisogna liberare la formazione. Questa è una premessa, anche perché le imprese nei prossimi anni, già da ora, hanno bisogno di rinnovare i due terzi della forza lavoro, le competenze della forza lavoro, su tre parole chiave, conoscenza, innovazione e internazionalizzazione. Senza queste tre parole le imprese non avranno futuro. Il problema è che questa rivoluzione culturale cozza contro una serie di ostacoli, di limiti, e questi limiti sono quelli che abbiamo molto discusso, perché più che di dire, di affermare quali sono le nuove competenze, noi abbiamo dovuto fare i conti su quali sono gli ostacoli che impediscono alla formazione di essere libera. E questi ostacoli li vedete un po' scritti. Non c'è un sufficiente riconoscimento della legittimità dei nuovi luoghi formativi. Cioè la formazione è qualcosa di burocratico, di autoreferenziale, che certifica e riconosce standard vecchi, antiquati, di cui forse non abbiamo più bisogno. Il problema è come un'azienda riesce a legittimarsi come luogo di formazione, che sia un'azienda tradizionale o che sia un'azienda innovativa. La rete è un altro dei luoghi che deve essere legittimato, deve essere rappresentato, deve essere riconosciuto. E poi c'è questa differenza su cui ci siamo incapricciati, come si dice un po', questo per dirvi la passione con cui abbiamo lavorato con tutti i componenti del gruppo, queste differenze tra formazione formale, non formale e informale. Adesso non apro questa discussione perché noi ci abbiamo speso abbastanza. Un secondo limite è quello nella qualità. Noi non siamo il paese della formazione, ma soprattutto non siamo il paese della qualità della formazione. Spesso le cronache ci dicono che noi violentiamo la formazione, rubiamo soldi, non siamo etici in questi processi e questo fa male. Ma uno dei limiti è quello professionale, cioè la qualità del processo formativo va sempre rispettata. La formazione non è addestramento, non è aggiornamento, è qualcosa di molto più complesso e di molto più profondo. Allora se non si fa analisi di fabbisogno e non si è formatori, se non si valuta quindi l'A e la Z del processo per garantire la qualità della buona formazione. Ovviamente per le persone mancano i servizi di orientamento. C'è una persona in tutto l'arco della sua vita che ha bisogno di essere accompagnato, ha bisogno di fare un bilancio di sé. I servizi da questo punto di vista non ci sono. Orientare le persone durante tutto l'arco della vita significa appunto essere capaci non solo di formare i giovani, come molto spesso capita, ma di formare appunto le persone più avanti con gli anni. E questo per fare ponte tra artigiani di tradizione, artigiani d'arte e nuovi artigiani digitali, ebbè la babele delle lingue è assolutamente il nemico da battere. Poi c'è appunto il tema dei linguaggi. Ho sentito che è già stato recuperato, quindi vado velocissimo. Bisogna in sostanza, ecco c'è questo modo stanco di proporre la formazione, sempre quella, standard e così via. Ecco, il problema è che davvero bisogna cambiare tutto. E poi c'è un eccesso di burocrazia, di complessità, di mancanza di semplificazione. Le aziende sono impegnate nel fare rendicontazione, più che di progettare un buon corso formativo. E questo non va bene. Soprattutto, e questo tra l'altro è un tema che ho visto che il Ministro Poletti ha recuperato l'altro giorno, c'è la frammentazione Stato-Regioni. Il vero limite che c'è in Italia è che noi non abbiamo né un sistema formativo, perché abbiamo 20 sottosistemi formativi che ci impediscono appunto di fare sistema. E quindi queste sono le criticità. Ovviamente le azioni, abbiamo steso un elenco molto lungo di azioni, ne abbiamo sintetizzate soltanto 5, cerco di andare velocissimo. Accelerare questo riconoscimento in chiave europea dei nuovi profili formativi. Voi sapete che le equivalenze sono importanti. Una persona che si forma in Italia deve essere capace di muoversi nell'Europa, di muoversi nel mondo, ma gli vanno riconosciute le proprie competenze. Codifica di nuovi linguaggi e saperi. Qui il formatore 3.0 deve assolutamente... Ecco, la crucialità è quella di nuovi formatori, che conoscano bene le fonti, dove stanno i saperi oggi. Quanti di questi saperi sono stati liberati? Sono liberi, gratuiti, a disposizione di tutti, senza troppe regole. Quindi la formazione dei formatori. Creare un sistema premiante per l'azienda che fanno buona formazione, secondo un processo di qualità. Quindi formare l'impresa. Favorire le piccole e piccolissime... Voi sapete che tre aziende su quattro non fanno formazione in Italia. E soprattutto sono le piccole che ne avrebbero più bisogno. Come creare una rete di consorzi per le piccole e medie imprese e in particolare per le piccolissime imprese, che hanno bisogno di trovare dei punti di condensazione. E infine investire per rimigliorare la rete dei servizi. Rete dei servizi al lavoro, reti di servizio alla formazione, sia pubblici che privati. Ecco, noi siamo molto indietro nelle infrastrutture per il lavoro, servizi al lavoro, e siamo molto indietro anche nella formazione. Quindi è una rivoluzione culturale che deve liberare le energie della formazione, la libertà della formazione, la vitalità della formazione. Grazie mille a Walter Passerini, che lo ricordo è il giornalista per la stampa, che in questo, devo dire, ha riportato quelli che sono i problemi annosi della formazione, che non riguardano necessariamente soltanto la formazione al digitale. E peraltro ho visto con piacere Alessandro Fusacchi, capito di gabinetto del Ministero dell'Istruzione, che ogni tanto annuiva, ogni tanto prendeva note, quindi immagino che abbia dato... Il tema dell'alternanza, infatti, che non ho citato perché, per esempio, se posso rubare un secondo, sono uscite alcune davvero delle idee interessanti, ve ne dico tre, se me le ricordo. Una è quella del tutoring, cioè staffetta generazionale. Bisogna organizzare dei momenti di confronto, ma anche di scambio, non solo di scambio della memoria, ma anche di scambio previdenziale, insomma. Bisogna entrare nella contrattualistica della staffetta generazionale. Un secondo punto è quello del coaching, che possono fare gli esperti, gli artigiani esperti, verso i giovani, ma anche i giovani sono in grado di insegnare qualcosa agli adulti, qualcosa agli esperti. E infine i racconti. È molto importante raccontare le buone pratiche, è molto importante non fare la propaganda o la pubblicità, ma cercare di capire quelli che sono i nodi di cambiamento che stanno dentro questi nuovi mondi e in questi nuovi linguaggi. E quindi confronto, incontro e scambio. Queste mi sembrano le tre parole chiave per le quali ringrazio Walter Passerini.